Ligas della NEI Contrariamente a quello che faccio di solito che parto un po' dai grandi concetti voglio entrare subito nel merito invece di una case perché ha vinto un sacco di premi 3 F, un argento agli ADC ma soprattutto è una case che ha funzionato parliamo di Inge Direct Case History Inge è una case di cui siamo veramente molto molto contenti è una case history sull'efficacia che parte da un brief preciso del cliente sul costruire efficacia in comunicazione quindi con degli obiettivi di business molto specifici sul quale abbiamo lavorato in tempi strettissimi siamo riusciti a costruire una case history dove è una comunicazione di cui tutti hanno parlato che è una comunicazione molto creativa ma fortemente ancorata su un posizionamento strategico che è figlio dei tempi che corrono e cioè del fatto che in questo momento gli italiani hanno una grande difficoltà dal punto di vista economico e quindi devono ricorrere al proprio risparmio la promessa è una promessa molto semplice come si vede dalla creatività e cioè quella del poter disporre dei propri risparmi in maniera totalmente svincolata e libera abbiamo scelto un testimonial per questa campagna che sono le storie tese che da sempre interpretano quello che è la pancia degli italiani e quindi avevano una credibilità anche nell'affrontare determinati argomenti che sono un po' diciamo sensibili, delicati e l'hanno fatto alla elio e alle storie tese quindi senza nessun tipo di problematica è una campagna che ha avuto dei risultati pazzeschi nel senso sia in termini di business di apertura di conti più 40-41% di apertura di conti ma ha anche avuto dei risultati ottimi in termini di advertising recall più 100% e anche in termini di brand e quindi è aumentata anche la brand awareness su un brand che è già molto conosciuto in Italia e anche addirittura la brand consideration quindi è una campagna che ha funzionato sia in termini di commerciali che in termini poi di brand è una campagna che dimostra insomma un po' il vostro modo di lavorare cioè strategie e creatività viaggiano insieme non c'è più un passaggio tra l'uno e l'altro assolutamente allora il brief era molto chiaro appunto era proprio vogliamo vincere un EFI e come diceva Filippo i tempi sono stati veramente stretti nel senso che in una settimana la campagna è stata partorita e cresciuta questo non deve essere un benchmark perché di solito lavoriamo in un po' più tempo però e tra l'altro ci siamo divertiti tantissimo a fare questa campagna la creatività è fondamentale perché oggi giorno proprio per quei malatempo raccourunt ci dicevamo le persone hanno bisogno di leggerezza hanno bisogno di un po' di divertimento l'entertainment ormai è diventato veramente la parola chiave se vuoi anche figlia dell'epoca e l'egemonia di TikTok la gente abituata a guardare e a usufruire di contenuti video per divertirsi per intrattenersi quindi abbiamo deciso di fare una campagna leggera trattando un tema così delicato come quello dei risparmi certo Egli e le storie tese ci ha aiutato ci tengo a dire che la canzone è nostra cioè composta da noi scritta da noi e poi cantata in modo egregio da loro quindi sì è un buon esempio del nostro modo di lavorare perché una forte strategia poi si è appunto è nata quasi insieme a una forte creatività appunto i risultati ci hanno dato ragione devo dire risultati che insomma se allarghiamo anche agli altri lavori mi viene mente Open Fiber ma anche il lavoro che state facendo per Bonduelle dimostrano come insomma un vostro posizionamento d'agenzia che avete ricercato nella capacità di lavorare insomma alla marca dall'alto premia nei rapporti anche che proseguono con i clienti sì il tema oggi dell'efficacia è un tema fondamentale nel senso che molti clienti siamo in un periodo molto complicato dove avere il controllo diciamo così sulla gestione della comunicazione del brand è sempre più difficile sia da un punto di vista di touch point mediatici nel senso che c'è una proliferazione di media che rende difficilissimo arrivare al target ma anche da un punto di vista di linguaggio nel senso che le nuove generazioni sono abbastanza restie e un po' più impermeabili a quello che era il classico linguaggio di diciamo push di advertising USP famosa di una volta quello su cui noi lavoriamo e ci lavoriamo ormai direi da 6-7 anni in Ligas di Leni è proprio su un posizionamento quasi consulenziale rimaniamo un'agenzia creativa e siamo un'agenzia creativa produciamo creatività ma la relazione che abbiamo con i clienti è una relazione che va a lavorare principalmente sul posizionamento ci siamo resi conto come in questi ultimi anni figlio principalmente della rivoluzione digitale ma è una sorta di tempesta perfetta tra il digitale e poi diciamo eventi che accadono che non sono prevedibili vedi il covid vedi le guerre quello che sta succedendo i consumatori corrono molto più velocemente delle marche quindi è come se diciamo le marche devono arrancare e stare dietro ai consumatori quello che facciamo qui è quello di studiare quelle che sono le nuove tendenze anche quelle più deboli e siamo in grado fondamentalmente di andare a riportare le marche nel radar di rilevanza del consumatore facendo questi studi che sono degli studi principalmente strategici leghiamo poi uno storytelling di marca alle nuove aspettative dei consumatori quindi siamo in grado di andare a raccontare delle storie che riposizionano le marche agli occhi dei consumatori questo è un lavoro che facciamo ripeto da 6-7 anni e che è un lavoro che lo puoi vedere come fil rouge di quasi tutti i nostri clienti dal lavoro che abbiamo fatto su Irene il lavoro che stiamo facendo su ING il lavoro che da 7 anni facciamo su Bonduelle è una marca che abbiamo accompagnato prima nell'andare a dare una risposta ai flexitariani cioè quelli che mangiano più verdure che vogliono aumentare la quota parte di verdure nella loro dieta quotidiana e oggi lo stiamo facendo sui climatariani addirittura cioè quelli che vogliono far coincidere diciamo così un beneficio individuale di gusto e di benessere a quello che invece poi è un impatto sul pianeta quindi è un posizionamento che ci portiamo indietro da diversi anni e che abbiamo sviluppato con degli strumenti specifici e sta dando credo dei risultati buoni sia da un punto di vista strategico che da un punto di vista creativo non c'è nella nostra agenzia e anche questo è il motivo per cui siamo qua a raccontarla insieme una distinzione tra quello che è strategia e creatività è un'agenzia che pensa e agisce quindi il pensiero prima è un pensiero concettuale poi diventa invece un pensiero agito nella creatività Cinta insomma i consumatori corrono più delle marche però le marche non possono smettere di rincorrere nel senso di esserci comunque di comunicare assolutamente oggi più che mai con questo spacchettamento media l'esposizione a messaggi multipli ogni giorno ognuno di noi è esposto a probabilmente 200-300 messaggi diversi ritagliarsi uno spazio nella quotidianità delle persone è fondamentale e non basta esserci non basta farsi vedere non esiste più la logica come dicevamo prima del flight dove spari la stessa comunicazione 12 volte speri che la gente si ricordi bisogna esserci in modo meaningful bisogna veramente fare la differenza nella vita delle persone le generazioni più giovani ormai sono abituate a ricercare marche con cui si sentono affini con cui sentono un senso di appartenenza un senso di comprensione la marca deve far sentire al consumatore che lo capisce che è lì per lui che può fare qualcosa di concreto per risolvere un problema per andare incontro a un suo credo a una sua esigenza e smettere di comunicare è l'errore più grande che si possa fare in questo momento anzi forse bisogna comunicare forse anche di più ovviamente poi dipende dal budget ma anche in modo più sensato forse più puntuale andare a cercare veramente qual è il messaggio giusto per la persona giusta in quel momento e qual è il mezzo giusto ovviamente stando completamente nella logica del mezzo non esiste più prendere uno spot tv e metterlo sul digital perché i consumatori non ti premiano anzi ti penalizzano quindi fatta la strategia come dicevamo c'è la mamma e poi bisogna fare figli diversi per ogni mezzo che poi per un creativo è la parte più divertente perché vuol dire prendere un messaggio prendere i linguaggi proprietari e in trend di quel momento e esplodere la creatività al 100% su tutti i touch point in cui poi tu sai di poter intercettare il tuo pubblico quindi tra creatività e strategia insomma in pillole qual è la vostra prossima sfida da vincere? la prossima sfida sulla quale stiamo lavorando già da qualche mese è di sviluppare un nuovo modello di comunicazione un modello di comunicazione che noi definiamo culturale dove culturale non è un tema di accademia della crusca o di fare della comunicazione intellettuale tutt'altro è un riuscire a sviluppare dei posizionamenti che sia a livello di promessa di rilevanza e quindi di che cosa andiamo a comunicare è comunque qualcosa di culturalmente rilevante e utile per i consumatori ma lo fanno anche in termini di linguaggio e cioè utilizzano un linguaggio che è come diceva Cinzia prima percepito come affine e quindi creano un'empatia immediata quindi non è più il concetto della marca che ti interrompe noi la famosa interruption marketing di cui parlavamo prima ma sono marche che vivono con le persone in questo senso la campagna di Inge ne è un perfetto esempio cioè una campagna che parla alla gente con il linguaggio della gente e con l'empatia giusta per quelle persone la sfida la sfida è fare comunicazioni sempre più meaningful sempre più diciamo che l'attention span delle persone è sempre più bassa parlavamo prima di 3 secondi 4 secondi quindi la sfida grossa è riuscire a intercettare l'interesse delle persone e poi riuscire a mantenerlo a mantenerlo alto per fare questo appunto un brand deve essere totalmente consistent con il pubblico con il mezzo vuol dire che deve cogliere deve saper intrattenere deve saper far pensare deve saper colpire alla pancia quindi la sfida più grande è riuscire a intercettare a trovare quali sono questi trigger point per ogni marca per ogni pubblico e per ogni media sempre più difficile il nostro lavoro però siamo qui per questo ci divertiamo a farlo e siamo sicuri che continueremo a farlo nel migliore dei modi un ultimo punto che aggiungerei che in un momento un po' diciamo particolare come quello che stiamo vivendo un momento difficile dove le marche sembrano un po' perse occorre un po' di coraggio cioè le marche devono riuscire a intercettare come diceva Cinzia prima delle tensioni culturali e far parte di un dibattito culturale quindi al di là e oltre alla vendita diciamo del prodotto devono riuscire veramente a intercettare il dibattito culturale questo comporta decisamente un po' di coraggio però se non se non lo troviamo oggi difficilmente riusciamo ad avere dei risultati in termini di business interessanti anche in termini creativi forse ci vuole un po' di coraggio il coraggio di uscire un pochino dalla comfort zone di un brand di riuscire a esplorare nuovi linguaggi magari cavalcare nuovi media avere il coraggio anche di prendere posizioni su temi che magari sono un po' meno no sono un po' percepiti come polarizzanti ma oggi invece i consumatori premiano i brand che prendono posizione su tematiche rilevanti per la società non vuol dire andare in tematiche spinose o divisive vuol dire semplicemente prendere atto che in questo mondo ci sono un sacco di problemi e io in primi sono convintissima che la comunicazione possa avere un ruolo enorme nel cambiare anche solo un pochino questo mondo terribile in cui viviamo è nostra grandissima responsabilità e dei brand con cui lavoriamo riuscire a spostare a spostare i comportamenti da anni ci sono grandi temi che oggi sono abbastanza comuni ma che dieci anni fa non lo erano e sono diventati comuni proprio perché brand hanno avuto il coraggio di portarli alla ribalta di metterli al centro della loro comunicazione quindi un pochino di coraggio anche nel modo di comunicare nei temi che si comunicano sicuramente può essere premiante oggi grazie a tutti Grazie.